Sei un combattente valoroso, e forse in un'altra occasione saresti potuto essermi utile, ma ora come ora non posso permettere che tu esca da questo castello vivo. Sei un invasore come tale per i mori. Ti consiglio di arrenderti. Tecnica della distruzione dello spirito! Ti consiglio di arrenderti. Tecnica della distruzione dello spirito! Tecnica della distruzione dello spirito! Tecnica della distruzione dello spirito! Ti consiglio di arrenderti! TECNICA DELLA DISTRUZIONE DELLO SPIRITO 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 TICNICA DELLA DISTRUZIONE DELLO SPIRITO col fan che poi non si può bennettere pilota guarda qualcuno guarda Sì, non lo so, non lo so, non lo so. E' più forte del suono Ma vuoi poter farlo? Ma vuoi poter farlo? Ma vuoi poter farlo? Little bit of a fire! Sparati a morire! Sparati a morire! Tecnica della distruzione dello spirito! Sparati! 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 Non c'è nulla, non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla, 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 non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla. Non c'è nulla.